ragazzi siamo al buono sto rientrando a salugge mi sono appena fermato a cigliano ho fatto un po di spesa ho fatto un po di spesa un po di frutta un po di verdura miele miele che non deve mai mancare adesso la casa butto tutto nel nell'estrattore mi faccio un bel pieno di liquidi vitamine minerali tutto quello che c'è poi magari dormo da qui a natale e mi sveglio per aprire i regali direi che siamo al buono 3 4 chilometri sono a casa grazie a tutti della compagnia è stato un giro bellissimo pieno di emozioni ciao